Il questore Vincenzo Ciarandino a Genova, Piazza De Ferrari, l'anniversario della polizia. Che cosa portate a Genova oggi in ricordo della fondazione? 160 anni di storia, di simpatia e di affetto degli italiani e nello specifico locale dei genovesi. E' il ricordo amaro, commosso e osseguioso verso la città di quelle giornate che hanno riguardato il crollo del ponte e in genere un po' tutte le tragedie genovesi.